Tortine di pandoro farcite con una crema senza cottura e pronta solo in 5 minuti. La crema di base si prepara velocemente con una buona ricotta, zucchero a velo e la base vegetale da montare già zuccherata. Con le fruste lavoriamo la ricotta e lo zucchero a velo e quando avremo ottenuto un composto cremoso aggiungeremo la base da montare. Insieme alla base da montare aggiungiamo anche un po' di liquore per aromatizzare. E adesso montiamo alla massima velocità. A questo punto dobbiamo arricchire la crema, io aggiungo gocce di cioccolato fondente, poi le scorzette di arancia candite, se le avete preparate utilizzate quelle e se volete anche del turrone sbriciolato. Assaggiamo. Tagliamo a fette il pandoro e il pandorino, quello che avete. Componiamo il nostro dolce. Base di pandoro. Crema nella sac a poche. Velo di cacao. E poi ci dedichiamo alle decorazioni. Ecco le nostre tortine. Ecco le nostre tortine.